Si sta per concludere un'altra estate che per voi è stata molto difficile? Decisamente sì, la situazione è ulteriormente peggiorata. Siamo arrivati dopo ormai diversi mesi di trattative, di controlli, di verifiche e quant'altro addirittura a fare due o tre segnalazioni giornaliere. Il comitato Stop Puzzo Arezzo non molla, anzi, dopo un'estate in cui si sono susseguite decine e decine di segnalazioni per i cattivi odori percepiti in diverse frazioni della città e anche oltre, il comitato torna a prendere posizione mettendo, come si suol dire, i puntini sulle i. Siamo diventati stalker, siamo diventati disturbatori, siamo diventati, addirittura siamo stati accusati di essere una catena di Sant'Antonio mediatica. E va bene, non è bello perché il cittadino è una risorsa. Tra i principali indiziati per le emissioni dei cattivi odori c'è indubbiamente il termo valorizzatore di Sanzeno che si sta trasformando in una vera e propria centrale di recupero. I componenti del comitato ci tengono a precisare che nessuno ne ha mai chiesto lo stop. Infatti il messaggio che inizialmente è stato sempre dato, proprio dall'inizio, è che non siamo contro l'impianto. Se c'è un processo industriale, qualcosa che crea questo tipo di problema, questi odori e speriamo odori e basta, ma insomma odori che comunque sia determinano dei problemi e questi problemi vanno risolti, questa cosa va risolta. Va bene fare tutti gli studi con i modelli matematici dei spostamenti del vento e quant'altro che ci possono dire come... però il problema essenziale è il puzzo, è l'odore, non ci deve essere, non ci deve essere nella maniera più totale. AISA ha adesso deciso, assieme all'amministrazione comunale, di effettuare un'indagine olfattometrica, dati che serviranno ad eventuali futuri investimenti per mitigare gli odori. Un peccato, dicono dal comitato, non averci coinvolto. È stata persa, a mio parere, anche un'occasione di collaborazione, perché voglio dire, potevano fare anche bella figura e invece hanno preferito considerarci come dei nemici e meno avversari nemici e quindi va bene, noi per carità di Dio proseguiamo molto tranquillamente, facciamo i nostri passi, però non si demorde. Siamo stanchi ma non abbandoniamo. La prossima assemblea è stata fissata per il 12 di settembre in previsione del Consiglio Comunale Aperto sull'argomento che si terrà il 21 di settembre. Diciamo che questa è una cosa trasversale e non sappiamo nemmeno più come spiegarlo. Il puzzo lo sente, sia chi ha dato il voto a questa giunta, sia chi non l'ha dato. Ed è così, è così. Quindi qualcuno si nasconde perché non vuole fare, per qualche motivo di interesse eccetera, non vuole fare confusione. Però un po' di confusione va fatta, ripeto, con calma, tranquillità, ma va sollevato il problema.